Ma bella bella bella, tutto bene? Oggi ragazzi vado a vendermi il re... Ok ragazzi, oggi siamo qui in questo video dove praticamente mi hanno regalato una texture pack. Questa texture pack è stata creata da Kraya, ovvero un pack maker che mi creò già delle texture pack fan made in passato, ok? Dunque oggi ho deciso di provarla con voi e di prov... Madonna, asietta, la ti levi? Oggi ho deciso di provarla con voi e vedere un po' com'è effettivamente questa pack e se vi piace la andrò a rilasciare. Per favore, prendi questo momento per entrare nelle mie discorse in descrizione. Vi invito ad iscrivervi se ancora non l'aveste fatto e se vi piace questa pack lasciatemi un bel like. E quindi nulla, essendo che mi vogliono polappare un po' tutti, vi lascio al video. Ok l'abbiamo messa e... Oh, non c'è un custom sky. Sì bro, non c'è il custom sky, inutile che guardi in cielo. Bellissima skin, bellissima skin bro, bellissima. Ricorda che nello scorso video criticai un ragazzo che aveva una skin un po' particolare e diciamo che questo ragazzo non era meno però dai. Sì però adesso non è che tutti andrete a mettere delle skin del genere, spero di no. Ok, allora iniziamo subitissimo, vediamo un po'. Uh, ok, i drop sono fatti... Uh, bella la scritta Carpy V2 qua. Bella, bella, bella. Tutto bene? Allora, i drop sono fatti in questo modo. Non male, mi piacciono, mi piacciono. Bene, vediamo un po' il restante. Oddio, aspettate un attimo lo shop... Uh, ok, non vedo l'ora di prendermi almeno l'armor in ferro. È strutturato benissimo. Oddio, che figata! Sembra tipo uno di quei giochi della Nintendo. Letto molto semplice, ok. Non è troppo incentrato su di me. La lana, oh, questa lana, ok, me la ricordo. Classica lana FPS boost. Però la cosa che mi interesserebbe in questo momento è vedere le parti. Uh, l'armatura non l'ho vista. Uh, ok. Con lo swag, già lo sai. Ok, non male, mi piace. Ok, ma se tipo God Bridge Jassy. Tanto per il meme. Degno, primo tentativo. Che cazzo di bard... Perché hai bardato al contrario. L'ansia mi si dispiace. No. Dai, però, non fate così. Ok, ciao, facciamo un piccolo screen. Ok, ora po', bro, puoi andare... Le particles, aspetta uno! I tool mi piacciono. Sono molto semplici, non c'è nulla di complicato. Diciamo che sta pack è tipo FPS boost. Mi piace sta cosa. Penso che magari non abbia aggiunto il Custom Sky apposto per dare precedenza agli FPS. No, bro. Uh, belle particles. Belle. Mi piacciono. Ok, preso il letto. Ah, vuoi fare screen? Vuoi fare screen? Cosa devi fare? Ok. Cioè, non capisco. Vuoi fare screen o vuoi combattermi? Ma che cazzo sta succedendo lì? Manu Dark Game, perché stai facendo questo? E perché anche tu hai bardato al contrario? Sentite, io non faccio domande. Vorrei prendere il suo letto. C'è un pre-parkour. Non ci credo. No, senti, bro, però... Non va bene così. Non va bene. Io non posso mostrare nel video che tu mi difendi. Soprattutto se sei nel team bianco. E soprattutto non puoi difendermi il letto. Cioè, che cazzo... Boh, io ti prendo il letto nel mentre. Che pensi che io sia pazzo? Ah, mi vuole dare tutto? No, bro, però dai. Non puoi far così. Non puoi far così. Prova, ti prego. Lo taglio, lo taglio. Ok, qua c'è il grigio. E gli voglio prendere pure il letto fra poco. Boh, cavolo a casa! Lo prendo. Se lo prendo, se lo prendo... Oh, l'ho preso, non ci credo. Hi. Oh! Mi sa che dovevo giocare le bedrooms in disguise. Ma non mi prende il letto adesso. No. Eh, però... No, 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 no. No! Ok, ragazzi, ho capito. Rifaccio il game. Prima ti uccido. E rifaccio il game, va. Non ci credo. Oh! Ok, ragazzi, siamo qui nel secondo game. Stavolta lo andrò a giocare in disguise. Per ovvi motivi. Penso che l'abbiate capito dal game di prima. Dunque, come al solito, andrò a guardare il mio letto e vado subito a lasciare. Perché ho preso del cazzo di fretta? Uh, belle parti cose dell'ender chest. Step numero uno. Mai colpiri una persona mentre sei in aria. Oh mio Dio, ma io dovevo smettere di prendere merda. Però là lo shop, eh. Quando lui... Pow! Colpe in testa. Gli prendiamo pure il letto. Let's go. Chiudiamo qua. Lo mettiamo in quarantena. E salto dentro con lui. Ok. Mori, mori. Let's go. Prima win. No, scusami. Prima kill. Oh, sta arrivando qualcun altro? Non c'è problema per me. Sono pronto per tutto. Eh, sono pronto pure per la morte. Attenti, essendo che non voglio stressarmi troppo nell'uccidere sto ragazzo, faccio così. Ah. Cambio di programma. Dovrò stressarmi per uccidere questo ragazzo. Perché? Perché, bro? Perché devi fare Empire State Building sopra le Bedwars? Per favore, non puoi semplicemente morire. Tipo così. In knockback? Devo morire. Devo morire. Sono pure esploso. E vabbè, ho preso di nuovo la linea. Questa è il riassunto della mia vita. Ogni volta che guadagno dei soldi li spendo in merda. Ok, penso di farmi sharpness. Ok, perfetto. Andiamo a farcela adesso. Ok, c'è il rosso Final Kill. Un momento della verità. Vai, let's go. Comunque, ragazzi, la pack non è per niente male. Non è per niente male. A parere mio mancano alcune piccole cose che possono essere fixate nel giro di due secondi. E per il resto, diciamo, molto bella, molto bella. Quindi, bel lavoro, Crya. È una Final Kill? No, è inutile. Però mi devo un problema. Ciao. È tornato su. Oggi non è il mio giorno, ragazzi, scusatemi. Mi sono tieniti. Mi ha dato un bel taglio di capelli. Sono pelata. È nulla, bro. Ci ricontriamo, eh. Spacca Cabbi 0101. Bel nome. Cambio. Sono morto. Quinto da Minecraft. Bella, ragazzi. Ci vediamo in un prossimo video. Ok, ci riproviamo, dai. Un'ascia. Legna. Block. Let's go. Il blu manca ha guardato il suo letto. Interessante. Dimmi che ci arriva, ti prego. Sì. Ok. È nulla. Si mette a guardare adesso. Bella, bro. Ho preso. Cioè, non è che potevi fare il contrario, bro. Partivi prima a prendere il letto per poi... No, tu hai dovuto fare il letto... Vabbè, lasciamo stare. Spero che il grigio non muoia. Eh, vabbè. Ho parlato. No. Facciamo screen? Screen, screen, bro. Screen. Sono il tuo fan. Questo è quello che subisco tutti i giorni. Ancora con Stefano. Io veramente non ce la faccio. Ma che cazzo? Che è sta roba? Oddio, che figata. Mamma mia. Ciupapi, mugnagno. Allora, il giallo, l'azzurro e il bianco sono final kills, mentre il rosa non ancora. Però, fra poco, di sicuro qualcuno verrà lasciarmi il letto. Andiamo sopra. Team bianco eliminato. Ah! Senti quel profumo, no? Profumo di... Di soddisfazione. Sharpness. Io corro. Bene. Perfetto. Prendiamo altre mele. Un'altra fireball e andiamo ad attaccare. Allora, da un bel po' di tempo che non c'è movimento. E non sto capendo cosa sta succedendo. Una brutta sensazione. Ecco. Tipo arriva. Eh, bro. C'ha pure i shower per questo uomo. Bro, siamo messi alla pari, ok? Vai, combattiamo. Ok. Siamo un po'... Vai, vai, carponi! Vai, carponi! Adesso spiegatemi, per favore, come cazzo ho fatto a rimanere vivo con zero cuore. Vai, 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 vai! Guarda! Adesso voglio il commento di qualcuno che mi possa consolare. Tu che stai guardando questo video, per favore, lasciami un commento dove dici che non sono l'unico a cui succedono ste cose. Spam block hit, sto uomo! Damn! E' nulla. E' molto confidente, sto ragazzo. E vabbè, ha scoperto il glitch di Coral, sto ragazzo, vabbè. Se devo perdere veramente contro il ragazzo che spam block hit, io ho veramente oggi quitto. Questo sarà il mio ultimo video del... No, ve lo giuro, questo sarà l'ultimo video del mio canale. Ragazzi, non sto scherzando. Se io muoio oggi per colpa di un block hit, terra, questo sarà l'ultimo video del mio canale. E non muore, però, di quella put... Vai, Dan Rosa, ad una condizione. Bro, ti prego, no, no, dai, non inizierò a farmi queste cose. Io, ragazzi, vorrei postare questo video domani. Quindi, per favore, se questo ragazzo mi permette di vincere Stable Edwards, giuro, lo posto. Ok, senti. Se mi fai... Se mi fai vincere, compari in un video di Carpi. Giuro. Questa parte la taglierò silenziosamente. Quindi, Carpi del futuro, edita questa parte. Rosa, ma che cazzo stai facendo? No, ti prego, sono curioso. Sono curioso, sono curioso. Grazie per un'opportunità di business. Bro, prendilo e lasciare. Dall'esgold, all'escarp, è un attimo. Ok, io sono curioso di vedere cosa stia facendo Rosa, perché è rimasto silenzioso per tutto il game. Lo scammo? Lo scammo? Lo scammo? Lo scammo? No, no, non ti scammo, vai, vai, vai a prenderlo. Non ti scammo! Prendi il rosa. Fallo per il mio video. Tieni, ti do pure i diamanti. Guarda, non sto trollando, non sto trollando, ti do tutto. Se non guardarmi, qualche anno ti guardo. Questa scena è bellissima. Vai, rosa, ta... Il bro è rimasto alle bedrock del 2016. Oh no. Ok, ora fammi vincere. Sì, sto reccando, sì, sto reccando. Mi serve il video per domani, ti prego, fammi vincere. Oh no, è scivolato! Nooo, GG! E nulla ragazzi, questo video vi è piaciuto, lasciatemi un bellissimo like e iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto. E nulla, fatemi sapere se questa pack vi è piaciuta, fatemelo sapere con un bel commento e noi ci vediamo ad un prossimo bellissimo video. Bella! Ciao!